segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te settimane lavoriamo per la pace dialogando con tutti per arrivare a un cessate il fuoco mentre il partito democratico parla solo di armi e guerra più chiaro di così questo è l'ultimo tweet di matteo salvini in risposta al suo alleato di governo enrico letta alleato di giuro sicuro giuro sulla città di angelis la lega un problema non ha il pulsante per far sparire salvini esposizione prego de angelis si nel senso che è evidente che ormai c'è tutto un pezzo di gruppo dirigente della lega dai ministri governatori eccetera che se potessero si sbarazzerebbe delle di questo leader ma appunto non hanno il pulsante quindi il percorso secondo me sarà ancora lungo e comunque se ne riparla dopo le amministrative comunque secondo me sarebbe un tracollo elettorale non sulla questione della russia la vicenda della russia è gravissima e diciamo denota al tempo stesso una 22 tendenze di salvini che coesistono una tendenza alla pagliacciata e la sua mancata la sua non libertà nei confronti rapporti con la russia ecco probabilmente le due cose stanno assieme no cioè il viaggio a mosca all'insaputa del governo il tentativo di farlo con improbabili consulenti che non sa da dove vengono è certamente una pagliacciata ma rivela che salvini sostanzialmente ha un rapporto organico con la russia di putin faccio presente che il famoso patto come si chiamava unità d'azione quello con russia unita diciamo è ancora vigente infatti lui quando il suo non è pacifismo diciamo è diciamo un modo per mascherare diciamo il fatto della sua collocazione anti occidentale che scusami alessandro ma il leader della lega che problema è per draghi ed è un problema più grande o più piccolo del problema conte ammesso che conte sia un problema per il governo una bella una bella lotta anche se mi sembra che in quanto a rapporti organici con la russia salvini non sia secondo a nessuno io credo una cosa oggi il presidente del consiglio dovrebbe parlare e immagino che risponderà anche a una domanda in materia io mi aspetto che dica che un miaggio a mosca di salvini è incompatibile con la sua presenza nel governo io credo che draghi debba essere molto duro censurare questo teatrino perché sulla queste vicende di collocazione internazionale non si scherza ecco e e chiarire che gli unici titolari diciamo di un eventuale trattativa alessandro ma ci stai dando tu una notizia c'è draghi è previsto che parli oggi o è un auspicio il tuo no no è previsto che parli a brussel e immagino che ci sarà qualche bravo collega e che no no so so che mi dici pure verso le 15 e 35 per me va bene ecco e comunque entro le 17 se puoi mandare un messaggino una cosa per favorire avevo capito che era entro le 17 perché è così noi ci organizziamo diciamo immagino che qualunque collega gli farà questa domanda e qui finiscono diciamo le cose che ragionevolmente so la cosa che auspico è la risposta perché dalla risposta capiamo cioè draghi bisogna vedere fino a che punto la spinge perché chiaramente si dissocia chiaramente criticherà il fatto chiaramente dirà immagino che nessuno può esponente la maggioranza può andare a mosca senza aver informato il governo ecco un indizio condiviso come ha fatto la farnesina come lasciato l'apparato il palazzo grigi il punto però è politico cioè se dice un miaggio se salvini parte un miaggio del genere è incompatibile con la presenza con la permanenza nella mia maggioranza grazie alessandro e non ho capito che tu lo spieghi grazie ad alessandro de angelis e leonardo da furro resta con noi grazie a tutti